Non solo il centrodestra, a Salerno si rafforza la candidatura di Michele Tedesco, avvocato pronto a correre a sindaco alle prossime elezioni amministrative. Anche la compagine di oltre, che vede protagonisti, gli ex rappresentanti di maggioranza, ha infatti deciso di puntare sul penalista. Un uomo libero, come ha sottolineato Dotto Channel 696, il consigliere Leonardo Gallo. Un percorso che abbiamo fatto, faticoso, che abbiamo fatto nel tempo, negli scorsi mesi, quello di cercare di unire tutte le forze della città che civicamente vogliono dar lustro a una nuova primavera, a una svolta a questa città oggettivamente abbandonata, stanca, che parla solo di se stessa, intendo dire, dalla politica che l'amministra. E quindi il riferimento all'avvocato Michele Tedesco ci convince, proprio per il suo civismo, la sua esperienza professionale, la sua qualità umana, di rigore, di trasparenza. Questo ci convince. Ma la partita è solo all'inizio. L'obiettivo della coalizione civica che si sta formando intorno a Michele Tedesco è allargare la discussione e il confronto anche ad altre forze politiche e associazioni, animate, ha sottolineato Gallo, dal desiderio di discontinuità rispetto all'attuale gestione. Chiunque vuole dare forza a questo progetto deve fare un passo indietro, fidarsi della città, degli elettori e cominciare seriamente ad ascoltare la città. Siamo aperti a tutti, chiunque, gli uomini di buona volontà. Importante è rimanere con i piedi per terra nel civismo e amare questa città.